Libertà è quello che provo quando sono immerso in questo paradiso quando spingo e sono un tutt'uno con i miei sci. Sono Michele Biglione, atleta della Nazionale Paralimpica di sci di fondo. Le Alpi Cunesi sono state lo scenario che mi ha permesso di reinventarmi come persona e come atleta e di questo sarò sempre infinitamente grato.